Qui vi presentiamo le 5 migliori coltelli a serramanico. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Tacliffe Coltello Pieghevole Professionale. È un classico coltello pieghevole, perfetto per il campeggio all'aperto, per fare un viaggio, attività all'aperto o in casa e per eseguire numerosi lavori, come aprire scatole, tagliare corde, cartone e plastica. Ha una lama in acciaio inossidabile di eccellente qualità, che non teme l'umidità anche se utilizzata in ambienti utili. È di colore grigio non trasparente per evitare riflessi aggravanti se utilizzato. Passando al numero 4. Coltello da caccia e torciale do potente set. È un kit sensato che include una lama e anche una torcia, entrambe multifunzionali. Il coltello è realizzato in acciaio inox, ha una dimensione di 20 cm quando è aperto, che una volta piegato si abbassa a 12 cm. La struttura è composta da apribottiglie, taglierino, rompivedo, lampa. La torcia fornisce 5 impostazioni illuminazione alta, illuminazione utensile, illuminazione bassa, strobo, SOS. È realizzato in alluminio leggero di qualità eccellente per aeroplani, resistente all'acqua Ipx 4 e anche anti-cadu. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Tacliffe coltello pieghevole. Con le sue minuscole misure 11,6 x 3,5 x 1,7 cm questo coltellino può essere facilmente posizionato in tasca, sempre online. Ha una lama in acciaio inossidabile e estremamente affilata di colore grigio opaco, per evitare rappresentazioni. Il rivestimento in titanio garantisce un'elevata resistenza alla ruggine. Almostat è top of our list at number 2. Tacliffe coltello pieghevole. La lama è realizzata in acciaio inossidabile, che garantisce durata e precisione di taglio ed è ottimale per l'uso quotidiano. Ha un rivestimento di ossido nero, che blocca la formazione di corrosione anche se utilizzato in ambienti particolarmente umidi. Previene anche rappresentazioni accecanti, estremamente fastidiose per gli occhi. La lama è sviluppata per garantire la massima protezione, grazie al sistema di apertura e chiusura di sicurezza. E infine il numero 1 della nostra lista. Bencraft coltello pieghevole serramanico con Qualità eccellente. Questa lama di sopravvivenza è lo strumento ottimale per rendere la tua fuga molto più facile e per aiutarti a svolgere i tuoi compiti. In un coltello, incorpora una lama pieghevole ideale per tagliare e anche intagliare, un taglierino per cintura e un puntatore per rompere il vetro in una situazione di emergenza. La lama è costruita in acciaio inossidabile. È lunga 95 mm, mentre la lama aperta arriva alla dimensione di 210 mm. È estremamente ben bilanciato e considerando solo 200 grammi è davvero leggero. Un inserto in legno rosso marrone è stato effettivamente inserito nell'impugnatura ergonomica per facilitare la presa della mano. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.